Musica E benvenuti in questo nuovissimo richiestissimo video Con il nostro unico e imitabile Ronaldo Junior In questo terzo e ultimo capitolo dato che praticamente nella seconda parte Tutti raga mi avete detto Omega vogliamo La terza parte Ragazzi io oggi vi porto la terza parte Quindi voi oggi dovete distruggere questo video Di mi piace Assolutamente Perché sarà il terzo capitolo finale Quindi vi ricordo che Cristiano Ronaldo è intrappolato in una specie di loop mentale E Ronaldo Junior dovrà liberarlo Si spera che le cose finiscano bene Perché potrebbero anche finire male Malissimo Per cui mi raccomando Siccome questo video è stato richiesto da voi Un bel mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Così non potete perdere tutti i prossimi video Importantissimo E come vi dico sempre A fine video saluto Gli ultimi 5 di voi su Instagram ragazzi Quindi se voi mi chiedete intanto di essere salutati Venite a seguirmi Basta che cercate Chioccio la realentoni Cliccate segui E vi potrò salutare a fine video Quindi Schere mi raccomando Bene pagliaci Allora iniziamo subito A questo problema Da quando ho fatto la guerra del corpo Ragazzi Ormai è storico Dalla prima serie È venuto a trovarlo Comunque Dovremmo uscire da qua E cercare una soluzione Il più presto possibile Perché papà È bloccato in un loop mentale E ho paura che Possa succedere la stessa cosa anche a noi Naturalmente impazzendo anche noi Me lo sento Quindi Sarà meglio andarsene Oddio che cazzo Oddio Basta con queste visioni Mi fanno vedere Gli infarti Fulminanti Soluzioni al nostro problema Ronaldo Junior sta facendo disperatamente Su e giù Nell'ospedale Nella parte Che non dovrebbe stare Perché di qui passano le ambulanze Stiamo facendo su e giù Per cercare un attimo Una soluzione Ragazzi Io vedo molto agitato Ronaldo Junior Dalla sua camminata Non l'ho mai visto camminare In questo modo Guardate Sembra incazzato nero Non so Dobbiamo pensare a qualcosa Ragazzi Non ho idea di come risolvere Questa situazione Potrebbe comparire Momodo un momento All'altro Dietro di me Sui palazzi Dovunque Porca miseria Devo trovare una soluzione Devo trovare una soluzione Ronaldo Junior Pensa 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 Chi ha parlato? Ma che è? Un signore di 40 anni Di 40 anni Ho esagerato Un signore di 70 anni Vestito con una Non lo so Vestito Sembra che è tornato Adesso dalla campagna Che è andato Che è andato a zappare I pomodori e i fagioli I pomodori e i fagioli Non si zappano Comunque Penso di aver reso L'idea Ok ragazzi È in atto Una singolare conversazione Tra Ronaldo Junior E quest'uomo Di età avanzata Oltre a 60enne Perché a quanto pare Quest'uomo Ha già sentito parlare Di Momo E sta avendo E sta avendo un dialogo Con Ronaldo Junior Forse ragazzi Quest'uomo potrebbe aiutarci Non so chi sia Da dove si è Spawnato Ma a quanto pare Stanno parlando Ora vediamo Che cosa si stanno dicendo A quanto pare Ronaldo Junior Sta chiedendo Chi è Se ci può dare aiuto E l'uomo sta dicendo Che può aiutarci E sa come distruggere La maledizione di Momo Forse E come sa come distruggere E ce lo devi dire adesso Porca miseria Sta raccontando Che in Messico Ci sono molti miti Tipo questo qui di Momo Che proviene dal Giappone E sta dicendo Che in molti casi Per distruggere E uscire Da queste maledizioni Perché noi adesso Siamo maledetti E schere Dobbiamo semplicemente Combattere Contro la maledizione stessa Che cavolo vuol dire Cioè dobbiamo Picchiarlo Cioè Che cosa Questo significa Dobbiamo combattere No Ti sta dicendo che Dobbiamo combattere Nel senso Perché Momo vuole Che noi arriviamo Al tal punto Che ci uccidiamo Perché non riusciamo Più a connettere Un piccolo Nerole Dal cervello Con un altro Piccolo Nerole Dal cervello Per cui Questo significa Che dobbiamo Resistere E combattere Significherà questo Io spero di sì Il signor ci sta consigliando Di andare sul Monte Ciliad Alle 3 Di notte Che è il posto più Vabbè Diciamo che Monte Ciliad Alle 3 Ragazzi Io me lo Lo passerei Però Se serve per salvare Papà E farmi una maledizione Io lo farei Va bene Grazie È stato molto gentile Possiamo anche Bemvedere Dalla camminata Di Ronaldo Junior Lo vedo un po' nervoso Un po' gasato Lo vedo un po' Guardate c'è la camminata Ed è gasato Cioè Io ti prendo E ti distruggo Porca miseria Comunque Dobbiamo aspettare E qua Dove affronteremo Momo Uno una volta Una volta per tutte Ronaldo Junior Ragazzi Sta per diventare Uomo Si spera Oppure diventerà Morto Non ne ho idea Dovremmo esserci Col orario Su 1 e 2 e 44 Dovremmo aspettare L'apparizione Di Ok non c'è Meno male Di Momo Da qualche parte Dopodiché ragazzi A quanto pare Se partisse Un loop mentale Come quello di mio padre Dovremmo combatterlo Perché a quanto pare Papà si è arreso Infatti Abbiamo visto che Nello scorso video Ragazzi Si è tornato Si è provato a suicidare Più di due volte E quindi Momo Ha preso il sopravvento Solo così Riusciremo a liberare Nostro padre E anche me stesso Dalla maledizione Di Momo Eh Ci siamo liberati Dalla maledizione Non credo In ogni Cosa? Che cavolo è? Oh mio dio Che diavolo Ragazzi c'è un UFO Ok ragazzi Forse potrebbe essere Iniziato il loop mentale Iniziano ad esserci cose Senza senso Perché c'è un UFO Che sorvola Il monte Ciliad A random Così Che co Oh mio dio ragazzi Forse dovremmo Andarcene di qua Forse non è il posto Il migliore adatto Per Ah Attura Che diavolo Madonna Basta da dietro Basta Dio Scappa Rondo Junior Scappa Scappare E andarmene via di qua Oddio Cosa? Da dove spungano quelli? Sono diventati 5 Adesso scappa Rondo Junior Ragazzi Vedo Rondo Junior Molto più nervoso C'è un UFO Lì sopra Perché Devo tornare Alla mini moto Ok ragazzi A quanto pare Il loop mentale Che ci dice il signore È iniziato Dobbiamo combatterlo Io scappo Porca miseria Mi sto cagato Rondo Junior Rondo Junior Rondo Junior Rondo Junior Questa è la Lamborghini Questa è la Lamborghini Della polizia What the fuck Ragazzi Che c'entra Oddio ragazzi Ma questo ve lo ricordo Come scordarsi Lo ve lo ricordate Quando Rondo Junior Provò a rubare La Lamborghini Della polizia Ragazzi L'avete visto In 400.000 Mezzo milione Di voi L'abbiamo visto Che Rondo Junior Ma perché Stiamo rivivendo I nostri ricordi What the fuck Oh mio dio ragazzi Non voglio dirlo Ma non sarà Mica che Oddio di nuova Mi ha fatto pure Che straccia Oddio 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 Ok ragazzi A quanto pare Stiamo rivivendo Il momento In cui andremo Per la prima volta A Stato Strip Club Che mi ricordo Che non lo diciamo Al nostro padre Oddio Pure Pure al bar Ragazzi Non ci credo Che Non è possibile Stiamo Oh mio dio Non so se Oh cosa Non so se ridere O piangere O scappare In ogni caso Aiuto Mi sto cagando addosso Il vecchietto Ci aveva detto Di combattere ragazzi Ma non riusciamo a farlo Oddio Cosa Quanti sono Scacca Dentro Entra dentro Rondo Junior Entra Papà Papà Sei proprio tu Papà Ragazzi Cristiano Ronaldo Papà finalmente Ti ho trovato Dove ti avuro eri Oddio ma Papà Ok ragazzi Forse abbiamo ritrovato Cristiano Ronaldo E forse è il momento Di far la fita Un'altra per tutta Papà Lì ci sono Una decina di momo Picchiamoli Distruggiamoli Dobbiamo fare Piazza pulita Di questa maledizione Le stiamo prendendo Di santa ragione Adesso basta Vi picchiamo tutti A sangue Papà Finiamoli tutti Papà aiutami Ok Ragazzi Cristiano Ronaldo Basta Coppa segreto Tie Oh mio dio ragazzi Se questo è lo scontro finale Penso che abbiano già perso Dieci contro due Non si può guardare E voi perché trevano Papà ti aiuto io Lascio a destare mio padre Aia Basta Sapevo cazzotti consecutivi L'abbiamo fatta Quindi Se il video vi è piaciuto In questa ultima parte finale Un bel mi piace Commentone Ditemi se vi è piaciuta L'ultima parte Com'è finita Iscrivetevi Sottissimamente al canale Così attirate la campagna Delle notifiche E siete sicuri ragazzi Che non perdete i prossimi video E come vi prometto sempre Anche in questa situazione Dopo aver battuto Momo E per dimostrato Che siamo veri uomini Gli orando giù Ne salutiamo Le ultime notifiche Di Instagram Voglio salutare Simone492018 Massimo Pelosini Edward Makovei12 Modsmar27 E Manuel Barbieri06 Questi ragazzi Sono i 5 bomberini Che io e Ronaldo Junior Abbiamo salutato Oggi dopo aver sconfitto Momo E anche voi Se volete essere salutati In tutti i prossimi video Fate come lui Vedete Che prende il suo telefono E mi viene a seguire Su Instagram Infatti vi basta cercare Chiocciola Rialentoni E potrete Essere salutati Da me In tutti i prossimi video Quindi Mi raccomando ragazzi Due minuti Passateci Bene ragazzi Qualche bene Qualche finisce bene Dovremmo risvegliarci Dovremmo tornare indietro Papà in ospedale Io Oddio E su Monte Ciliad Però qui c'è ancora la neve Oh mio dio Insomma In ogni caso Ce l'hanno fatta ragazzi Grazie per aver guardato Questo video E grazie per aver venuto In Ronaldo E un Ronaldo Ronaldo Junior Che ci hanno fatta Guamecozzo E ci becchiamo Tutti quanti In un prossimo video Ciao pagliacci E ci becchiamo Ciao pagliacci